Buonasera a tutti. Anche per dire questa memoria, forse penso che come vengono tocchi alcuni punti delle ultime cose vette dal professor Biondo, per non passare. Vorrei soltanto dare un messaggio tranquillizzante. I idrogeologi, che sono alcuni esperti locali presenti in sala, vi potranno confermare almeno la valentità di cui vi sto facendo. L'emissione della nitrite carbonica, che peraltro vi ricorda un attimo in superficie limitata alla unica zona di manifestazioni naturali vicino a un vecchio pozzo a 13. Solo lì c'è una manifestazione naturale, altrove non c'è. E comunque non può mai essere la causa dell'aumento d'aluminio nell'acqua. Ecco, questo prendetelo come informazione delle scientifiche. La causa dell'aumento drammatico, come quello che veniva ricordato nel 2010, di alluminio nell'acqua, poi avete avuto il problema dell'arsenico, che quello è stato più un fatto di cambiamento delle soglie di accettabilità. Questo aumento d'aluminio è dovuto essenzialmente a forti pioggi. Quando piove fortemente nella zona, l'acqua rilava le rocce della ciclo superficiale e in quel caso arriva a interessare, a misura più notevole, le acque potabili della ciclo superficiale e si trascinano con sé, in alcuni casi, in questo alluminio. Quindi la causa è questa. CO2, la mannite carbonica. Nei documenti che abbiamo presentato e ripresentato, abbiamo anche illustrato i risultati di una, per la prima volta, fatta nella zona di Tocococco, di un biemo molto particolareggiato, di misure di flusso di acque di carbonica da Zona, fatto da un gruppo dell'Istituto Nazionale di Giustizia del Carbocino. I risultati sono che, al di fuori della zona della manifestazione, già più volte a mezzoglare, altrove, il flusso dell'indice di acque di armi di armi di armi di armi, è estremamente basso, veramente basso. queste misure sono state ripetute anche due mesi fa, in aprile di quest'anno in particolare sono state ripetute nei punti dove dovrebbero venire ubicati i posti futuri proprio per avere un regolamento di ritenimento in merito al dato molto forte se le missioni saranno la relazione